Il segno del cancro è una luna un po' problematica, quella che transita nel segno dell'Ariete come sempre, perché è una luna che vi agita, quindi vi sentirete un po' ansiosi in questa giornata e non capirete bene nemmeno il perché, perché fondamentalmente le cose funzionano in questo periodo, ve ne state rendendo conto, e soprattutto per l'amore, un amore pieno di passione, un amore pieno di romanticismo, di progetti anche per il futuro, ed è forse proprio questo quello che vi spaventa, i progetti per il futuro. Perché? Perché sarete costretti a prendervi anche delle responsabilità e questo in qualche modo può crearvi un po' di ansia, non è vero Pasquale? Le responsabilità poi possono creare un po' di ansia. Eh certo!